Giancarlo Marcelli, questa mattina l'incontro con il sindaco Anna Maria Cassini per discutere della vicenda del parco commerciale. Cosa vi ha detto il primo cittadino? È stato un piacere di averla conosciuta, si sta rendendo molto disponibile e collaborerà con noi per sciogliere questo problema, quanto prima, che è la cosa un po' delicata, però l'affronteremo. Cosa potrà fare il comune nel merito di questa vicenda? Il comune è limitato, adesso dobbiamo affrontare con la provincia e la regione e poi in ultimo ci sarà anche il sindaco che darà la sua massima disponibilità. Senta Marcelli, sta continuando nel frattempo la sua protesta? Assolutamente no, no, momentaneamente no, però continuo a lavorare e se non si svilupperanno nell'arco di poco tempo, chissà, riprenderò a fare quello che ho fatto. Adesso i vostri prossimi passaggi dopo l'incontro di oggi in comune quali saranno? A chi vi rivolgerete? Con la regione chiaramente, sì. Approfondiremo con la regione. C'è anche il presidente della provincia, l'Antonio De Crescenti, che si sta prestando molto e quindi vediamo. Adesso procederemo anche con la regione e vedremo un po'. Fiducioso? Sì, molto. Sì. Speriamo che si sblocca quanto prima.